Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. La mucca è un grande mammifero erbivoro appartenente alla famiglia dei bovide. Noto principalmente per la produzione di latte, carne e per il lavoro agricolo. Questi animali hanno un ruolo fondamentale nelle società umane da migliaia di anni, essendo stati addomesticati per la prima volta nelle regioni dell'Asia e dell'Europa. Le mucche hanno dimensioni variabili. La loro lunghezza può andare dai 100 ai 230 cm, con un peso che varia da 400 a 1000 kg. La loro aspettativa di vita media si aggira intorno ai 25 anni. Questi animali presentano un'ampia varietà di colori e modelli nel manto, che può essere nero, marrone, bianco o una combinazione di questi. Le mucche si alimentano principalmente di erba, ma la loro dieta può includere anche siano, cereali e altri vegetali, a seconda della disponibilità. Sono ruminanti, il che significa che hanno un processo digestivo complesso che permette loro di scomporre la cellulosa presente nelle piante. Nonostante la loro grande taglia, le mucche possono cadere preda di grandi predatori come lupi e grandi felini in alcune parti del mondo, sebbene l'uomo rimanga il principale predatore attraverso l'allevamento e la macellazione. Le mucche sono diffuse in tutto il mondo e sono allevate in una varietà di ambienti, dalle regioni temperate alle zone tropicali. Tipicamente, vivono in ambienti controllati dall'uomo come stalle, campi e pascoli, dove possono essere trovate in grandi gruppi. L'adattabilità e l'importanza economica delle mucche hanno portato alla loro diffusione globale, con una presenza significativa in quasi ogni paese. a 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